Calo da record del bitcoin sul mercato delle criptovalute, la moneta digitale perde il 25% avvicinandosi ai 10.000 dollari. Il bitcoin, la più nota tra le monete virtuali, sconta la stretta della Cina che intende rafforzare il proprio controllo sulle nuove valute e colpire duramente questo tipo di transazioni. Di recente Pechino ha messo nel mirino siti web e app che offrono servizi di scambio di moneta virtuale per bloccare la speculazione e della Corea del Sud invece la proposta di bandire totalmente le criptovalute. Le monete virtuali sono valute generate da un software, a differenza delle valute fisiche non sono regolate da alcune autorità centrale, bancaria o di governo.